Buongiorno e benvenuti nel canale di ElenTV, scritto in questo modo, Ercol3NTV, ok? Purtroppo non sappiamo quanti scritti ha perché sono nascosti, sarebbe bello visualizzarli così per dare una mano e capire se sta crescendo o meno. Il canale di ElenTV ha molti video, fa molte live, dà aiuti su alcuni programmi di editing, gioca a Minecraft, anch'essa aiuta con le intro per il canale, vedete quanto ne sta facendo e quanti aiuti può dare, comunque fa piacere a chi dia questi aiuti, fa qualche top 10, top 5, qualche classifica dove può valutare giochi, e tanto altro, per cui ha molti, molti canali, molti, molti video da guardare. Per cui in conseguenza speriamo che Elen metta attivo l'escrizione così fa piacere anche sapere quanti scritti abbia e vedere se il nostro aiuto può far sì che gli scritti aumentino, così riusciamo a capire se lei sta incrementando le sue iscrizioni. Per cui noi entriamo nel canale di ElenTV, scritto così, El3NTV, Elen, vedete? Diamo una mano a crescere, iscriviamoci, campanile attivo. Ha detto questo ragazzi, alla prossima, bella!